Scene raccapriccianti, quasi da film dell'orrore, sciocca da Cireale dove una 23enne è stata posta agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Dalle indagini dei militari è emerso che la donna, madre di due bambine di 5 e 2 anni e un maschietto di 2 mesi, avrebbe maltrattato la bimba più piccola in diverse occasioni. La giovane legava per ore la figlia al seggiolone per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa, la colpiva violentemente e una volta le ruppe due denti con un colpo di cucchiaio soltanto perché la piccola aveva difficoltà a deglutire. Quel che è peggio è emerso solo oggi, quando la bimba aveva solo 15 mesi, la madre la scagliò di peso contro il parabrezza dell'auto del padre naturale della piccola, un suo ex amante, per convincerlo a darle dei soldi. Quando l'uomo si è rivolto ai carabinieri, lei ha minacciato di vendicarsi sulla piccola. La giovane, secondo le investigazioni dei militari, avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe minacciato e picchiato anche l'attuale convivente e i suoceri quando gli rifiutavano i soldi per comprare la droga. La famiglia ha sempre taciuto per paura delle vendette annunciate dalla 23enne sulla bimba nel tentativo di proteggerla ma senza riuscirci. Le violenze sono emerse dopo la denuncia ai servizi sociali comunali di una parente che ha notato la bambina piena di lividi e con un occhio sanguinante. La donna adesso è indagata per maltrattamenti in famiglia, estorsione, furto in abitazione ed uso in debito di carta di credito. Il GIP, su richiesta della procura, ha disposto anche la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale per sei mesi.